Impegno ravvicinato con il favore del campo per l'Olimpia agnonese che a seguito del pari di mercoledì ottenuto col Pineto vuole superare l'Avastese che occupa la quintultima posizione in graduatoria prima dell'1-1 con l'Aprilia. Lo 0-0 in casa del Campobasso ha aumentato non poco l'autostima dei ragazzi del Molisano D'Adderio, giudice della sfida il signor Marangone della sezione di Udine. Tuttavia gli ospiti bussano alla porta avversaria. Dopo solo 20 secondi, Martinez leggermente defilato appoggia Martinello che la gira a lato. Al quarto d'ora calcio da fermo per gli agnonesi da costa con una soluzione a giro, testa i riflessi di Di Rienzo. Minuto successivo manovra bruzzese da Martinez per l'inzuccata sotto misura di Martinello. Caputo salva un gol praticamente fatto, preme l'Avastese, identici protagonisti dell'azione. Dalla sinistra pallone in mezzo, l'attaccante centrale Martinello continua a prendere le misure senza però far troppo male a Caputo. Alla mezz'ora piazzato in favore degli ospiti, provvede Obodo per la battuta. Figurino e Panini ad incrociare per Martinello che manca il gol della domenica. Trentaduesimo, Obodo di nuovo da fermo intercetta la barriera Granata in maniera regolare secondo il parere di Marangone che ignora le proteste. Al minuto numero 33 si prende la scena anche di Prisco che quasi da limite prova a sorprendere. In modo innocuo però il portiere locale, premiati gli sforzi dei Biancorossi al trentottesimo, corner dalla corsia di destra, stacco di Obodo, deviazione decisiva e allo stesso tempo favorevole per Diarrà che correggia in rete il punto dello 0-1 che è anche il parziale della prima parte di gara con l'Olimpia sotto nel punteggio. Secondo tempo con Antonio Diperna in regia, 60 secondi, Adamaia si batte in aria tra le maglie Biancorosse ma poco cattivo. Viene chiuso sul più bello dall'uscita di Di Rienzo, 17, Mamona in solitaria dopo l'ingresso in area di rigore, rasoterra al veleno Martinello con l'acquolino in bocca. Si divora la rete del raddoppio, 24, Obodo insiste con le punizioni, traiettoria non irresistibile a fin di palo dopo il tuffo di Caputo per il quale prosegue il pomeriggio impegnativo, questa volta a sporcare i suoi guantoni all'avanzato di Filippo, non tallonato a dovere dalla retroguardia locale. Vuole chiuderla la formazione aragonese di Prisco, si mette in proprio, cambio repentino di passo prima del raddente, non lontano dal palo. Sarebbe stato il colpo del K.O. per l'Agnonese che al 35esimo sfiora il pareggio, grazioso, da poco entrato nei Granata, conserva un buon possesso, sinistro e giro morbido. Cuoio che sbatte sulla traversa, sfortunati i molisani nella circostanza. Dopo tre minuti di extra time al Civitelle passa l'Avastese che a piccoli passi sta risalendo la china dopo il forzato lungo stop. L'Agnonese di nuovo sconfitta per la diciassettesima volta in campionato. Cercherà la prima vittoria mercoledì nel recupero di Porto Sant'Elpidio. Padrone di casa oggi no, però comunque mi sento a casa mia e questo va anche a merito della società che oggi ci hanno ospitato in maniera incomiabile, in maniera molto ammirevole. Per cui come agnonese ringrazio la Polisportiore Impiagnone per l'ospitalità di oggi. Detto questo per noi oggi era importante portare un risultato a casa perché anche noi al di là delle partite che dobbiamo ancora recuperare eravamo in una posizione che forse non era consona a quelle che erano le nostre aspettative. Però abbiamo giocato contro una squadra alla quale va fatto soltanto un encomio perché è una squadra che nonostante la classifica hanno espresso dei valori, i valori quelli dello sport effettivamente si sono battuti, ci hanno realmente reso come si dice la vita dura per cui va un grande incomio alla squadra che è dell'Agnone che veramente ci ha messo in grossa difficoltà e questi sono insegnamenti per chi fare sport, cioè al di là del risultato è importante mettere tutto quello che uno ha sul campo di calcio. Per la salvezza il cammino è ancora lungo ma in questo pomeriggio comunque è stato depositato un importante mattone per voi? Sì, diciamo che ovviamente le aspettative non erano queste, bisogna anche considerare che forse siamo l'unica squadra che due volte ha subito purtroppo la pandemia del Covid e vi assicuro che sono delle situazioni che lasciano ovviamente dei segni però diciamo che con la compattezza, con una società forte alle spalle e con un gruppo di ragazzi veramente ammirevoli perché vi assicuro che lavorare in queste condizioni non è facile però questo, permettetemi di dire, è stato veramente grande merito alla società che ha sempre sostenuto in momenti di difficoltà il gruppo, la squadra, bisogna dire senza che nessuno si offenda abbiamo anche un team manager che è stato veramente un figlio come loro, un padre per loro e diciamo che è stato veramente decisivo in alcuni momenti di difficoltà, è Legno di Filippo che, ripeto, è una persona straordinaria, è una persona che veramente ha in questo momento così delegato, è stato il valore aggiunto di questa squadra e di questa società.